Presidente, a quattro giorni dal voto per il Campidoglio conferma la libertà di scelta per l'Udc? È una scelta obbligata per non tradire più di due milioni di elettori che ci hanno sostenuto e che hanno saputo da noi di un'alternatività a Berlusconi e di un'alternatività a Veltroni che ha amministrato Roma fino a ieri. Voteremo secondo coscienza, così faranno i nostri elettori senza indicazioni da parte del partito. Che opposizione farà allora nel nuovo Parlamento? La nostra sarà un'opposizione repubblicana, in nome e per conto della Repubblica Italiana. Un'opposizione sui contenuti perché io credo che i furori ideologici del passato hanno distrutto l'Italia e ci hanno messo tutti in ginocchio. E al dialogo proposto da Veltroni cosa risponde? Il dialogo con Veltroni e con l'opposizione è obbligato, così come il dialogo col governo, con Berlusconi. Chi sta in un'opposizione repubblicana non può lasciare spazi e margini a sfascismi, a posizioni distruttive. Dialogheremo con tutti. Come vede il futuro di Alitalia? Lo vedo male, naturalmente. Il prestito Ponte è solo una scelta tampone. Mi auguro che si materializzi nelle prossime ore questa accordata italiana di cui ha parlato Berlusconi in campagna elettorale. Se no il fallimento sarà una prospettiva e sarebbe un dramma, questo deve essere chiaro per tutti.